Sì, buonasera Roma, Roma quanta sì bella, il mio nome è Silvia, sono Fiocca, non ho più voce, mi chiamo Silvia Fossi, con la F di Firenze, sono Fiorentina, ma ecco, sono nata, cresciuta, battezzata a Firenze, ma vi giuro non ho niente a che fare con... Davvero, a parte gli scherzi io mi scuso con voi, ma fra l'affanno per trovarvi, fra che non ho più fiato, due parole vi voglio dire, il mio titolo di studio, chi mi conosce ormai lo sa, perché l'avrò detto 50 volte, ma non mi stancherò mai di dirlo, il mio titolo di studio è quello di guida turistica, quindi turismo, lingue straniere. Allora, chi meglio di voi romani sa di quanto è bello il nostro paese, che vi giuro potrebbe vivere di rendita... quello potrebbe essere il nostro reddito di cittadinanza, ve lo dice chi nel turismo c'è dentro. Mi si sente? Allora, io ho lavorato, ho vissuto tanti anni, lontana da qua, 23 anni, ho deciso di trasferirmi in Olanda, quindi Nord Europa, Amsterdam, ci sono rimasta 10-11 anni circa, ho lavorato presso delle aziende di trasporti aerei internazionali, quindi export aereo, merci, dopodiché ho fatto alcune selezioni, ho superato i test e sono entrata in Alitalia, sempre presso l'aeroporto di Amsterdam, quindi capirete che un pochino di mondo, qualche paese e qualche persona di nazionalità diversa dalla mia ne ho conosciuta in vita mia e ve lo ridico, vi prego, non sono arrogante, chi mi conosce un pochino lo sa, ma forse stasera un po' d'arroganza la tirano fuori, bene, non pecco di arroganza quando dico che l'Italia è il paese più bello al mondo, è vero che nel Nord Europa funziona tutto, l'amministrazione funziona, funziona tutto, la tedesca si dice in casa mia, non so se si dice anche a Roma, no? tutto, le strade, il fisco, la giustizia, funziona tutto, ma quello che noi abbiamo, loro purtroppo non ce l'hanno, il sole, il mare, le colline, le montagne, le pianure, i fiumi, il clima, la gente, non ce l'hanno, quindi quello che io intendo fare con il Movimento 5 Stelle, sempre se ne avrò la possibilità, è quello, voglio andare in Europa a riprendermi il mio paese dalle mani di quella gente là e chiedo aiuto a tutti voi che io mi debba mangiare i pomodori, magari pompati in serra da una Germania che il sole non ce l'ha e devo buttare via i pomodorini, magari del Salento, dove c'è un sole, la fine del mondo, ma vi sembra normale? Le arance siciliane io me le devo buttare via, devo mangiare quelle, ripeto, cresciute e pompate magari con gli OGM in una serra magari di un paese del nord, che il sole non ce l'ha mai, non lo date per scontato il sole ogni mattina, il sole in cielo ogni mattina non è scontato, avere la basilica, come si chiama, San Paolo, San Giovanni, sono tutti santi a Roma, non è scontato, vedere un panorama da una collina non è scontato, in Olanda mi dicevano, oh Italy beautiful, beautiful, insomma vabbè, dicevano per noi riuscire a vedere, per riuscire a vedere un panorama così dobbiamo prendere l'elicottero, quindi voi capite, ma è vero, i turisti in Italia impazziscono, ok? Però purtroppo nel turismo sta gente non ci può mangiare, si devono inventare le grandi opere. Allora, ripeto, io vi chiedo una cosa sola, nel vostro piccolo, così come facciamo noi, anche io mi sfiato, cerchiamo di informare quanti più cittadini possibili di quello che sta accadendo, della trave che ci arriverà tempo un anno quando entrerà in vigore il fiscal compact famoso che ci ammazzerà tutti e cerchiamo ognuno di noi comunicare con quanta più gente possibile, sbarrare il simbolo del Movimento 5 Stelle alle europee, specialmente alle europee, perché là ormai che purtroppo decidono tutto, scegliere per il movimento non è una scelta politica ragazzi, è una scelta di vita o vivi o morti. Roma, mi fido di te, ok? Mi fido di te, per favore, non ce lo facciamo portare via, un paese come il nostro non c'è, ve lo giuro su Dio. Grazie.